Tutto è nato perché da circa un anno e mezzo stavo cercando di altri miei mostri. In questo periodo quando abbiamo iniziato a cercarli era poco la megacrisi, le banche stavano per più, delle craft dell'Italia, cose terrificanti, quindi è stato un po' il peggior momento per cercare fondi per qualsiasi progetto. Il fatto ha voluto che qualche giorno dopo il capodanno, quindi nel 2012, Alessandro mi ha proposto questa mostra. Cioè viene quasi da dire che ormai non ci hanno pensato prima, nel senso che sì, street art eccetera, però Osmo è uno street art based sui generis, è un po' particolare. Sì purtroppo questa periodina dalla Leonardo da Vinci dove effettivamente per me le opere sono mai finite.